La proposta del Governo è assolutamente incredibile, specialmente in tempi di taglia i bilanci degli enti locali che vanno a toccare il vivo della carne degli enti locali. Cioè spendere 300 milioni per il referendum, che sicuramente abbiamo chiesto come ragioni, è assurdo. Noi chiedevamo di farlo con un election day che metta assieme elezioni amministrative e anche appunto quesito referendario, che è rimasto, per fare un'economia di scala, per riuscire a mantenere appunto risorse e salvaguardarle semmai per altre cose e soprattutto poter sentire i cittadini. Questa scelta del Governo è assolutamente strana, probabilmente vuole comprimere la campagna elettorale referendaria. Noi ci appelliamo al Presidente Mattarella, che mi sembra persona più di buon senso rispetto appunto a chi in questo momento ci governa. E mi auguro e spero che questa scelta non sia stata influenzata dagli interessi dei petrolieri. In questo momento come istituzioni dobbiamo far prevalere gli interessi dei cittadini, la possibilità dei cittadini di esprimersi in un quesito referendario, in una consultazione democratica e non devono prevalere invece logiche che vanno a salvaguardare interessi di compagnie petrolifiche, peraltro tantissime che arrivano dall'estero. Grazie Grazie Grazie